In altri giorni dell'anno intervistare i commercianti a Bari non è stato mai difficile, anzi, nel primo giorno di saldi invece è stata un'impresa ardua, non per mancanza di volontà o per scortesia, ma di tempo, almeno nel centro murattiano a Bari alle prese con i clienti in coda a caccia dell'affare prima che si esauriscano taglie, numeri e colori e con i saldi anche fino al 70% l'ottimo acquisto è garantito, con buona pace dei negozianti che tornano al ritmo costante a batter cassa, mai come quest'anno. Una battaglia da stamattina Bella affluenza Bellissima Più degli altri giorni Degli altri giorni, degli altri anni, più dell'anno scorso C'è voglia di spendere allora? Senz'altro Spesa media? 120 euro Il primo giorno state già sull'orlo di una crisi di nervi? No, possiamo reggere ancora un po' Un momento di ripresa? Anche, e c'è voglia anche di spendere, di gratificarsi. Qualche lamentela non sfugge in via Manzoni, poche iniziative quest'anno per ravvivare lo shopping natalizio, dice qualcuno, partenza un po' fiacca tra qualche vetrina illuminata e locali chiusi ormai da tempo, ma i commercianti non demordono e nei saldi ci sperano. Io ho del 20, del 30 massimo, perché i prezzi sono minimi. Cosa vi aspettate da questi saldi? Un pochino di lavoro in più, se ce n'è va bene. Dopo tanto tempo che non si faceva niente ci vorrebbe altro. Ma le festività come sono andate? Male. C'è movimento oggi? Oggi c'è un po' di movimento. Speriamo che continuano queste vendite.